welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao laura. Hola a todos y todas. Hola Davide. Hola Voodoo do ragnon. Voodoo do ragnon. Credo che significa ciao a tutti in coreano cari amici ben ritrovati ben ritrovati qui con noi in questo appuntamento con i grandissimi 3 2 1 forestella i magici forestella quelli che ci fanno sognare un gruppo coreano creato nel lontano 2017 che già abbiamo reazionato più volte e ci fanno impazzire letteralmente oggi laura andiamo a reazionare una canzone tua tua nel senso della tua lingua ti ricordi quale canzone bellissima davide questo un himno per noi ico della luna wow ico della luna immaginata immaginate forestella che emozioni possono darci con ico della luna bene noi siamo quasi pronti e potremmo anche andare ad ascoltarla che dice laura andiamo carico intanto vi dico sempre che adoriamo le vostre i vostri commenti giù e le vostre lingue fantastiche quello che scrivete insomma noi ci emoziona tanto quindi vi ringraziamo per tutto per quanto scrivete e per quanto ci state vicini grazie ancora però io direi proprio di andiamo a emozionarci ci sono i fazzoletti sì perfetto e allora andiamo ad emozionarci con loro con i forestella laura ma quante creme ti sei comprata ovvio ma è natale davide mi sono arrivata dell'assienda crauturo tutto per la bellezza della pelle però detto laura tu che piangi tanto devi mettere la crema con l'assidio ialuronico questa bella per il giorno questa bellissima per la notte però prima ti deve fare un bel bagnito della faccia con questo tonico che ha anche pulisce il viso a crauturo bene lo conosco è l'azienda leader in italia con oltre 100 articoli potete anche richiedere il catalogo andare sul sito www.crauturo.it andare a vedere tutti i prodotti che ci hanno a parte queste creme fantastiche per le per l'età appunto per l'ingiovinimento della pelle ci sono anche il creme curative omeopatiche naturale al 100% quindi andate sul sito e soprattutto grazie a crauturo che ci ha dato un codice sconto che potete usufruire per tutto l'anno avrete il 15 per cento fino al 31 di dicembre che fate ascoltatemi andate subito e registratevi sul sito e andate a fare il vostro ordine e risparmerete tanti tanti soldi che ci sono a A prendere la la se il Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.